L'Election Day, previsto per il 20 e 21 settembre, comprende, come ormai è ben noto, anche il referendum sul taglio dei parlamentari. Due giorni in cui i cittadini italiani verranno chiamati alle urne per confermare o meno il testo della legge costituzionale concernente le modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in riferimento alla riduzione del numero dei parlamentari. Sono chiamati al voto tutti i cittadini italiani che al 20 settembre abbiano compiuto 18 anni. Per poter esprimere la propria preferenza ci si deve recare al proprio seggio muniti di tessera elettorale di un documento di identità valido. Non è richiesto il quorum di partecipazione del 50% più 1, quindi il numero dei votanti non sarà fondamentale per l'esito del voto. La riforma della legge che dovrà essere confermata o meno dal referendum prevede che la Camera passerà da 630 a 400 deputati, mentre il Senato da 315 a 200 eletti. Meno parlamentare significa anche che ogni membro del Parlamento italiano rappresenterà più elettori, ovvero il rapporto numerico tra eletti e votanti cresce. Votando per il sì, l'elettore acconsente al taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, mentre scegliendo il no ci si esprime in favore del mantenimento dell'attuale numero dei deputati e senatori.